Ragazzi, velocissimo short per ricordarvi che sul nostro negozio sponsor Gioco Liberia Semola è preordinabile tutta la roba del nuovo barra vecchio Warhammer Old World. Quindi se andate sul sito che trovate in descrizione al video e anche ora in sovrimpressione della Gioco Liberia Semola trovate tutti i prodotti di Warhammer Vecchio Mondo che in questo momento sono il Codex più la roba dei Camry e quella di Bretonnia, regolamento che prende regolamento di base tutti gli eserciti anche come rulebook ma soprattutto i due Codex, uno dedicato all'esercito di Bretonnia e uno dedicato a quello di Camry. Vi ricordo che i prodotti sono preordinabili e verranno spediti dal 20 di questo mese in poi. Mi raccomando usate sempre il codice discount Coridan7 perché anche su questo acquisto avrete spese postali gratuite in 48 ore a casa dal 20 in poi e 7% di sconto. Il Vecchio Mondo ritorna con tutti i pro e i contro e siamo pronti ancora una volta a combattere in quell'ambientazione che ci ha fatto sognare in tutta la nostra infanzia. Almeno parlo per me, la mia sì. Ciao ragazzi, alla prossima!